Oggi creerò una scultura con materiali di riciclo. Pensando ai miei alunni ho scelto come soggetto una formica, immaginandomeli come tante formichine operose, per la loro determinazione e per l'impegno preso nella difesa della natura. Una volta completata la struttura, sono poi uscita in cerca di materiali naturali, per poterla decorare con foglie, legnetti e corteccia. Grazie per la visione!